Ciao ragazzi, ciao! Ancora oggi sono qui con Fabio Chi segue il canale già lo conosce perché ha già visto il video dove presento Fabio Nel caso contrario lascio qui sotto in descrizione il link per andare a vedere questo video Tanti mi hanno chiesto, ma come faccio a contattare Fabio? Ma che cosa riesce a recuperare Fabio? Quali set Lego mi trova? Allora, Fabio se sbaglio correggimi Scrivete a Fabio, gli mandate una mail, io poi sempre in descrizione vi lascio i suoi contatti Facebook e indirizzo mail Gli scrivete dicendo Fabio ciao, sto cercando il set degli anni 80 numero Y Oppure Fabio mi piacerebbe avere il castello Lego set numero X Fabio vi risponde, vi dice ragazzi io questo set lo trovo, ne ho trovati due, ne ho trovati tre E poi insieme scegliete quale volete prendere di set, Fabio vi aiuta in questo Può anche essere che Fabio vi dice questo set non si trova ragazzi E vabbè fa niente, gliene chiediamo un altro Io ho chiesto a Fabio due set, un set è il numero 6820 della serie UFO dello Space E l'altro set è l'arachnoide della serie Insectoid che è una serie che io fin da piccolo ho collezionato Poi non sono più riuscito a trovarli e come sapete la Lego dopo un tot toglie fuori produzione i set e non li trovi più Beh Fabio è riuscito a recuperarmelo, stamattina mi ha telefonato e sono venuto subito qui a farvi questo video Fabio quanto ci abbiamo messo a recuperare questi set? Ma più o meno qualche settimana diciamo Ok, sì tre settimane dai più o meno così Allora qui c'è l'arachnoide in confezione originale Scusa Fabio ti ho coperto Aiutami qua Allora arachnoide confezione originale, chiaramente è usato Apriamo, lo facciamo vedere qua Qui ce n'è un pezzo già costruito Nel sacchetto tutti i componenti per realizzarlo Istruzioni originali dell'arachnoide Invece il set UFO, quello piccolino È qua, dentro questa busta Abbiamo già controllato i pezzi, ci sono tutti Non ci sono le istruzioni ma le recuperiamo online in qualche modo Eccolo qua Adesso io ragazzi andrò a casa a costruirmi questo set Poi vi metto un video Seguite il canale perché poi li vedete già tutti costruiti Fabio ricordiamo ancora una volta come contattarti Sì, non lo contattare tramite il mio indirizzo email Oppure tramite Facebook Ok, vi lascio io in descrizione sia la mail che il contatto di Facebook Con il link per andare a cercare Fabio Da tutta Italia, lui ve li spedisce Non è un problema, io abito vicino Quindi vengo a prendermeli personalmente Va bene ragazzi, allora io vado a costruirmi il set Lego arachnoide e l'UFO piccolino Vi facciamo un salutone E mi raccomando Seguite sempre il canale Iscrivetevi, commentate i video Lasciate tanti like Ciao ragazzi Grazie mille Grazie a tutti.